Buongiorno, in questi pochi minuti cercheremo di dire qualcosa sulla mitigazione del rischio della liquefazione, ne abbiamo sentito già un po' parlare che è un aspetto ovviamente molto importante di tutto quello che stiamo dicendo, per farlo passerò brevemente in rassegna, abbiamo pochissimo tempo ma dobbiamo necessariamente farlo, alcuni aspetti che dobbiamo conoscere se vogliamo mitigare il rischio, cioè riguardano la liquefazione, dirò due parole sulla possibili approcci che possiamo usare per la mitigazione del rischio della liquefazione, farò un paio di esempi, uno più tradizionale, uno meno per cercare di trarre alla fine alcune conclusioni. Abbiamo visto che la liquefazione è una perdita temporanea di rigidezza e resistenza dovuta a una particolare condizione di sito legate allo Stato e alle condizioni del contorno per cui sotto accettazione sismica succedono eventi catastrofici di quelli del tipo che abbiamo visto sia in Emilia meno critici ma certamente importanti anche in Nuova Zelanda in modo molto più esteso. Dunque, perché avviene? Bene, l'abbiamo sentito dire un po', io ho qui in questi miei slide un paio di richiamini per mettere in ordine le cose che le ho provate a fare, ci sono dei fattori predisponenti e dei fattori scatenanti, i fattori predisponenti sono legati allo Stato del terreno e all'acqua e allo Stato tensionale, mentre quelli scatenati essenzialmente al terremoto. Per quanto riguarda il terreno, è ovvio, l'abbiamo già detto, un terreno sciolto ha una tendenza a liquefare, cioè a generare sovrappressioni neutre in condizioni non drenate che annullano temporaneamente le tensioni efficaci, molto di più di un terreno denso. Un terreno non cementato evidentemente anche in condizioni più critiche. importante è la distribuzione granulometrica del materiale, cioè è sperimentalmente osservato che più fine, più fine plastico c'è nel terreno e meno questo sarà suscettibile di liquefare. Poi ci sono ovviamente condizioni legate allo Stato dell'acqua nel terreno. La falda vale a dire che la saturazione, l'abbiamo già detto, è un fattore predisponente e le condizioni al contorno, cioè se il nostro strato liquefacibile è in condizioni che favoriscono gli insorgenti sovrappressioni neutre, la situazione sarà più critica. Lo stato tensionale, evidentemente bassi stati tensionali, cioè terreni più superficiali sono più liquefacibili perché più facilmente si annulleranno le tensioni efficaci. Il terremoto ci deve essere con un'ampiezza e una durata sufficienti a generare il meccanismo. Quindi questo è il quadro di riferimento, niente di più di questo volevo dire e l'unica osservazione che faccio, se questo è vero, già abbiamo i primi spunti per cercare di capire cosa si potrebbe fare per migliorare il comportamento del terreno sotto sisma in termini di miglioramento delle proprietà. Prima di passare nel dettaglio però faccio un richiamino sul fatto che noi stiamo cercando di mitigare un rischio che concettualmente sappiamo il prodotto di una pericolosità per un danno e che quindi già si apre una forchetta su possibili strategie perché quello del consolidamento dei terreni è di fatto una riduzione della pericolosità, della probabilità di liquefazione metto un termine diffuso nel senso che noi non riusciremo mai a evitare che qualcosa succeda ma che le conseguenze vorremmo non siano importanti per le nostre costruzioni e dall'altra parte c'è il rinforzo strutturale che potremmo dire mirato alla mitigazione, alla riduzione del danno prodotto da un evento sul quale non interveniamo. è importante avere in chiaro diciamo chiaro in testa che queste due strategie sono entrambe possibili insieme o separatamente e la scelta va fatta caso per caso in funzione delle condizioni al contorno, stiamo parlando di edifici nuovi o esistenti, esistono vincoli ambientali per esempio una falda che non dobbiamo inquinare che può creare dei vincoli nel trattamento dei terreni, possono esserci vincoli strutturali ad esempio strutture storiche di pregio artistico su cui non vogliamo fare consolidamenti strutturali. Tutte queste cose devono orientarci nella scelta dell'approccio che non è a priori scontato. Detto questo passiamo a quello di cui mi dovrei interessare io, cioè il consolidamento dei terreni, abbiamo fatto una lista di fattori predisponenti e ovviamente quindi se una sabbia è sciolta e non cementata la prima cosa che ci può venire in mente di fare è di addensarla, eventualmente di cementarla. Se abbiamo un basso contenuto di fine, perché no potremmo avere voglia di aggiungere artificialmente del fine in questo terreno. Se il terreno è saturo, come ha già detto il professor Fioramante, potremmo avere la tentazione di desaturarlo. Se ci sono condizioni non drenate potremmo cercare di favorire il drenaggio. Ecco, queste sono le contromisure dirette, però dobbiamo tener conto, l'abbiamo già visto, che ci sono anche conseguenze della liquefazione, nel cosiddetto lateral spreading. Di fatto quando avviene la liquefazione esiste una variazione dello stato tensionale per cui c'è una temporanea assenza di confinamento laterale che favorisce la propagazione in senso orizzontale del meccanismo dal punto in cui viene generato. E questo tipicamente viene combattuto creando nel terreno dei reticoli di pannelli interconnessi che isolano delle celle di terreno in cui quindi non viene impedito il fenomeno della liquefazione ma lo si isola per evitare che si propaghi in direzione orizzontale. Ad esempio per il ponte sullo Stettio Messina era stato concepito un approccio del genere. Tutte queste tecniche possono andare sotto il cappello del cosiddetto ground improvement, cioè del consolidamento di terreno. Ma ovviamente abbiamo detto che potremmo voler ridurre il danno, cioè evitare o ridurre gli effetti sulla struttura in termini di sedimenti, di capacità portante o perché no di sollevamento di strutture interrate. Tutto questo lo si farà appunto con tecniche di rinforzo strutturale che possono prevedere interventi di vario tipo come ad esempio la posizione di masse opportunamente poste nelle strutture interrate e così via. Dunque nel nostro progetto liquefat come è stato più detto più volte detto io mi interesserò di consolidamento dei terreni e proveremo a implementare tecniche di addensamento, di desaturazione e di drenaggio, ma ho messo una stellina diciamo tenue vicino all'aggiunta di fine perché più studiamo l'argomento più vediamo che le ricerche attualmente in corso in giro per il mondo ci indicano che questa potrebbe essere una tecnica molto interessante. Per la brevità del tempo a disposizione in questa presentazione vi darò qualche cenno con un paio di esempi applicativi di addensamento e di desaturazione. La prima è una tecnica che potremmo definire decisamente tradizionale e la seconda un po' meno. Partiamo dall'addensamento. L'addensamento vuol dire, l'abbiamo già detto, una riduzione dell'indice dei pori del terreno e tipicamente lo si può portare avanti o con tecniche dinamiche o statiche cosiddette come la vibroflottazione, la compattazione dinamica da superficie o il compaction grouting. Ci sono anche altre tecniche di cui non ci interessiamo. Ovviamente in vicinanza di siti costruiti ci interessano le azioni che disturbano di meno le strutture esistenti e parliamo appunto di questo compaction grouting che molti di voi conosceranno. Richiamo brevemente la tecnologia, si inserisce una batteria di aste nel terreno, si inietta dal fondo una miscela molto densa, bassa mobilità con uno slump molto basso che crea una sorta di sfera nel terreno la quale disloca lateralmente il materiale addensandolo localmente. Iterando opportunamente in verticale, su verticali contigue a questo trattamento, evidentemente possiamo ottenere il nostro scopo prefissato. Evidentemente come ingegneri abbiamo un problema di progetto che dire come dobbiamo eseguire queste iniezioni, qual è la spaziatura tra le colonne, evidentemente quali sono le dimensioni delle colonne. Abbiamo degli strumenti concettuali per prevedere quello che succede. L'iniezione di una sfera di questo materiale che si cresce nel tempo, mano a mano che iniettiamo questa miscela, crea un addensamento e possiamo immaginare che avvenga su superfici sferiche e in questo volume viconesi terreno avvengono dei fenomeni elastoplastici, esistono le teorie anche complesse che ci consentono di fare una stima dell'estensione del trattamento con questo meccanismo. Però se noi facciamo questa cosa, soprattutto quando ci avviciniamo in superficie si dimostra che è facile che la pressione di iniezione che stiamo creando generi dei meccanismi di rottura di tipo conico che si propagano fino in superficie creando degli effetti evidentemente indesiderati di sollevamento del piano campagna. Ed esistono anche, come vedete da questo riferimento bibliografico abbastanza vecchio, dei semplici riferimenti che ci indicano quali dovrebbero essere i valori della pressione di iniezione che non dovrebbero essere sorpassati in funzione della profondità di iniezione. E poi ci sono dei fattori subsperimentali che chiunque usi le tecnologie non deve mai dimenticare e c'è la perdita di volume che ci fa fare degli errori nelle nostre previsioni per trafilamento della miscela all'interfaccia con le tubazioni o per permeazione molto spesso inevitabile. Questo ovviamente non lo vogliamo ma non lo possiamo eliminare. Diciamo che il meccanismo di tipo 1 predomina nei trattamenti profondi, mano a mano che si sale in superficie il meccanismo di tipo 2 rischia di essere importante e dobbiamo considerarlo se stiamo implementando questa tecnologia vicino a delle costruzioni. Porto un esempio di questa regione, gentilmente offerto da Trevi in quanto partner del nostro progetto. Vedete bisognava nel comune di Centro in provincia di Ferrara realizzare una scuola, di cui vedete qui la pianta, vicino a zone in cui c'era stata un'estesa liquefazione, tutti i punti neri sono evidenze di liquefazione. Questa è la stratigrafia al di sotto della scuola e lo strato che era stato riconosciuto liquefacibile era questo, al di sotto del periodo libero della falda, tra un metro e mezzo e sette metri di profondità. Sono stati, vado molto brevemente, sono stati fatti dei campi sperimentali, importante l'applicazione delle tecniche, fare campi sperimentali per ottenere la sequenza opportuna di parametri e di distanza tra le colonne, è stata scelta una spaziatura di un metro e settantacinque con delle colonne che come vedete saggiamente in questo caso hanno un diametro che si riduce lungo l'altezza verso la superficie perché l'addensamento è più critico ovviamente in profondità e per ridurre gli effetti di sollevamento in superficie. Come tipicamente si fa? La verifica è di tipo indiretto dell'efficacia, cioè si prende una verticale tra le colonne nella zona che noi volevamo addensare, questo profilo azzurro ci dà un profilo di resistenza alla punta prima del trattamento, si ha tutte le verifiche che si possono fare di suscettibilità alle riquefazioni, un valore richiesto della resistenza alla punta che soddisfi i requisiti da normativa di cui ci parleranno tra poco e quello opposto ci dice invece l'effetto complessivo della compattazione che in questo caso è stato come vedete molto efficace. C'è però un difetto in questo caso e cioè grazie all'attento monitoraggio che è stato fatto è stato anche osservato un importante spostamento in verticale, vedete c'è stato uno sposto, questo è una colorazione per diversi valori, per gradazioni degli spostamenti verticali verso l'alto, come vedete i punti rossi corrispondono a 26 cm di sollevamento decisamente incompatibili con l'esistenza di superficie, di edifici in superficie e attenzione anche in contrasto con gli attuali metodi di progetto empirici che ipotizzano nulli gli spostamenti verticali per fare diciamo delle stime dell'addensamento del materiale. Quindi questo è l'esempio semplicissimo, quindi riassumendo sull'addensamento esistono delle tecniche e ci sono dei forti pro, le tecniche sono molto semplici e gli effetti benefici sono permanenti nel senso che io addenso un materiale il cui stato è modificato in modo permanente senza costi aggiuntivi. Quali sono i contro? Ovviamente come ho cercato di dire è difficile prevedere gli effetti di quello che facciamo e la loro estensione e si possono generare importanti effetti di disturbo ambientale e per questo le tendenze più recenti sono quelle di andare verso apparecchiature via via più piccole, ridurre l'impatto ambientale e le vibrazioni indotte. Questo è per quanto riguarda l'addensamento. Sulla desaturazione, argomento molto interessante, abbiamo visto che se il terreno è saturo è più suscettibile di liquefazione, allora possiamo volerlo desaturare e le tecniche più ovvie sono l'uso di trincee, di pozzi con pompaggio, ma le tecnologie emergenti sono quelle di insufflazione o di creazione in qualche modo di gas nel sottosuolo. Questo perché? Perché in realtà esistono due possibili approcci che noi potremmo voler seguire nella desaturazione. Vogliamo una fase aerea continua con menischi d'acqua tra le particelle, alta desaturazione o vogliamo semplicemente fare l'acqua minerale? Le due cose sono entrambe possibili e sono soprattutto entrambe efficaci. La cosa da osservare è che i problemi meccanici e sperimentali delle due cose sono molto diversi e vediamoli entrambi. La desaturazione elevata, beh, dal punto di vista tecnologico è una banalità, sono l'applicazione di pompe al fondo di pozzi e trincee, abbiamo i modelli analitici dall'Ottocento, ci fanno prevedere in modo abbastanza affidabile come vada il pelo libero della falda in queste condizioni, quindi siamo abbastanza con buona confidenza in grado di vedere cosa stiamo facendo nel terreno al di sopra. Quindi questa è una tecnica certamente di cui sappiamo bene tutto, ovviamente il prezzo che stiamo pagando e che stiamo aumentando a volte in modo importante gli stati tensionali lì dove abbiamo abbassato la falda, per una serie di motivi legati anche alla sozione. Questo è un caso di studio, un campo prova di questo tipo di tecnologia attualmente in corso in Giappone, fornitomi da Professor Cosecchi che appunto è uno degli advisors di cui si parlava prima del nostro progetto e qui hanno fatto due siti contigui per verificare l'applicabilità di questa tecnica, delimitati da palancole ovviamente per limitare il pompaggio, in uno hanno addirittura costruito delle sagome di piccole abitazioni unifamiliari tipo giapponese e hanno usato trincee o pozzi diciamo aggottando acqua dal fondo di questi per abbattere la falda. Cosa vi voglio far vedere? Voglio far vedere in questo caso che hanno fatto un attento monitoraggio come ovvio e gli spostamenti sono diciamo andati avanti per diverso tempo perché c'era delfine in questa sabbia e quindi possiamo osservare. Innanzitutto le linee continue sono delle simulazioni numeriche, qui siamo in grado come avevo già anticipato sia in certi casi analiticamente ma anche numericamente di prevedere molto bene quello che facciamo, cosa che noi dobbiamo ricordare. Il fatto negativo è certamente che abbiamo indotto anche in questo caso cedimenti importanti dell'ordine del 10 centimetri e più, quindi altro difetto. Per finire, prima delle conclusioni, diciamo qualcosa sulla desaturazione limitata. Questo diagramma che vedete qui è un vecchio diagramma degli anni 70 in cui si vede che la curva di resistenza ciclica, cioè quella che ci dice quanto il nostro terreno è capace di resistere al nostro terremoto così come viene ricavato in laboratorio, è molto sensibile al grado di saturazione SR. C'è un terreno saturo, cioè SR uguale a 1, mano a mano che tolgo acqua si riduce il grado di saturazione e vedete questa curva schizza verso l'alto anche per grado di saturazione molto molto bassi. La cosa è quindi intrigante anche perché esistono delle tecnologie per motivi ambientali per insufflare aria nel sottosuolo. La cosa però ovviamente pone una serie di problemi, tanto per dirlo subito non è ancora a livello di applicazione industriale, ma sono in corso molti tentativi in laboratorio e in sito per cercare di trovare le migliori tecniche per farlo. L'approccio è molto promettente ma la meccanica e la teoria che c'è dietro è abbastanza complessa e quindi c'è bisogno di ricerca. Qual è l'effetto di queste bolle? Potremmo immaginare che rendono il fluido acqua che agli stati lezionati interesse dell'ingegneria geotecnica è un fluido incompressibile, lo rende un po' compressibile, quindi più bolle ci sono più compressibile il fluido. Per esempio questo che riporta un recente lavoro su Geotechnique di Mialas e Buscarnera in cui loro propongono una formulazione della compressibilità di un fluido equivalente in funzione della pressione dell'acqua applicata U ed è grado di saturazione. Si vede qui dove ho diagrammato la rigidezza che è l'inverso della compressibilità che un terreno saturo con grado di saturazione 1 avrebbe una rigidezza elevatissima, basta buttare un po' giù il grado di saturazione per ridurre anche di due ordini di grandezza la compressibilità del fluido, cosa che evidentemente ha effetti benefici, chiunque si ricordi un po' l'esame di Geotechnique, ricorda il famoso coefficiente B di Schempton che in un terreno saturo dovrebbe essere uguale a 1, si vede che questo valore tende a scendere in modo molto importante al ridursi del grado di saturazione, altro indizio del fatto che ingenereremmo sovrappressioni neutre minori, quindi mettere un fluido compressibile se ci riusciamo è molto benefico dal punto della vista della risposta al terremoto e qui riporto molto brevemente anche dei risultati di prove statiche fatte di recente che confermano quanto di buono si possa dire sull'uso della desaturazione o di un fluido compressibile equivalente. Ovviamente l'idea è molto attraente ma come stavo cercando di dire prima diciamo c'è una criticità, io sono arrivato quasi alle conclusioni quindi solo due slide. Quindi riassumendo sulla desaturazione questa tecnica molto interessante. Quali sono i pro? Sappiamo che abbastanza ragionalmente prevedere l'estensione non l'uniformità ad esempio con l'issufflazione di gas, è estremamente efficace e tra l'altro non cambia nel caso della bassa desaturazione lo stato tensionale in modo significativo quindi se stiamo operando sotto un edificio non induciamo cedimenti, la cosa è molto molto intrigante dal punto di vista applicativo evidentemente. Quali sono i difetti? Ovviamente è una tecnica non permanente, se noi mettiamo le pompe e le spegniamo la falda risalirà e quindi gli effetti benefici del pompaggio si riducono. Per bassa desaturazione abbiamo appunto come ho già detto più volte qualche mancanza di conoscenza ben sedimentata e per alta desaturazione invece importanti cedimenti. Quindi i recenti sviluppi sono quello per esempio dell'uso di colonie di microbatteri che nel loro metabolismo possano generare dei gas in modo permanente. concludo con quest'ultima slide in cui le conclusioni le ho poste sotto forma di domande, cioè mi pongo tre domande quando devo risolvere un problema di ingegneria. Ho una chiara compensione del problema che devo affrontare? Ho strumenti tecnologici sufficienti per eseguire il progetto? Ho metodi di progetto affidabili? Allora proviamo a rispondere a queste domande. Nel primo caso parlando di liquefazione io direi di sì che la risposta è sì, noi i meccanismi, le cause predisponenti e scatenanti le conosciamo. Quindi la mia risposta è decisamente sì. Abbiamo tecnologie adatte al trattamento per la mitigazione della suscettibilità a liquefazione? La mia risposta è che in molti casi le tecniche si rivelano efficaci, ma in alcuni casi gli effetti collaterali possono essere talmente gravi da rendere inapplicabili le tecniche. Quindi c'è bisogno di innovazione e per fortuna alcune soluzioni promettenti sono all'orizzonte. Quindi la mia risposta qui è spesso. Abbiamo le tecnologie spesso. Abbiamo dei metodi di progetto affidabili? Ebbè la mia risposta qui è un po' più articolata nel senso che la maggior parte delle volte per usare un eufemismo, forse un modo nobile di dire come si progettano queste cose si usa il metodo osservazionale, vale a dire che si fanno dei campi provo oppure dei progetti molto semplificati e poi si va in sito e si cerca di capire come stanno funzionando le cose senza utilizzare veri e propri metodi di progetto che ci danno previsioni a cui crediamo come quelle che per esempio ci darebbero il carico limite di una fondazione superficiale o il carico limite di un palo. Mentre noi avremmo l'ambizione come ingegneri di avere questo strumento e quindi la cosa che fa un po' soffrire e che studia queste cose è che gli strumenti teorici sono a disposizione manca un po' il legame con dei semplici metodi progetti e su questo bisogna lavorarci. Quindi la mia risposta da questo punto di vista è che raramente, non sempre, diciamo direi più raramente abbiamo a disposizione questi strumenti progetto ed è quindi un buon motivo per cui ricerche e buona pratica debbano andare a braccetto ed è il motivo appunto per cui noi siamo qui sperando che il progetto LIQUEFAT possa dare un contributo. Grazie.